ciao e benvenuto in pecora mannara oggi facciamo il punto su wp engine che si merita decisamente la menzione come hosting mannaro viste le prestazioni eccellenti ed il servizio da paura per chi si ricorda tempo fa ho avuto qualche problema con register per la velocità di caricamento del sito ho scambiato qualche mail con l'assistenza di register senza ottenere nessun risultato per questo motivo ho deciso di spostare pecora mannara su un hosting più performante e quindi ora diamo uno sguardo a wp engine e quali caratteristiche offre questo servizio straordinario questa che si vede la scheda di valutazione di gtmetrics ricavata dall'analisi di register con un'installazione di wordpress minima la votazione f è pessima ed i tempi di caricamento erano lunghissimi nell'ordine di decine di secondi se vai sull'articolo troverai un'analisi dettagliata dei valori del servizio vediamo ora un'analisi in diretta dell'installazione completa di pecora mannara invece su wp engine come è abbastanza evidente la votazione a grande in verde sta ad indicare che la qualità del servizio è decisamente superiore e se andiamo sulla timeline vedremo che i tempi di caricamento sono sull'ordine dei millesimi di secondo se sei curioso di sapere come performa il tuo sito vai su www.pecoramannara.com barra prestazioni sito troverai una serie di strumenti che ti permetteranno di analizzare le prestazioni del tuo server fallo pure anche su pecora mannara così ti renderai conto delle differenze e ti aiuterà a fare una scelta adeguata per essere chiari avere un sito performante offre vantaggi enormi oltre che ad essere tenuto in grande considerazione da google come elemento per il posizionamento indubbiamente è un grande aiuto per l'esperienza dell'utente che naviga il nostro sito ma le caratteristiche straordinarie di wp engine non si fermano certo qui se entriamo nell'area amministrazione alla voce wp engine nel tab staging troviamo una delle cose più affascinanti di questo servizio e cioè la possibilità di fare una copia di prova del sito e quindi avere un secondo sito dove fare tutti i nostri esperimenti prima di mandarlo online senza intaccare nel tempo quello che i nostri utenti vedono ovviamente questo è un servizio che non è comune agli altri hosting come ad esempio bluehost justhost hostgator e molti altri pur essendo servizi di ottimo livello oltre a non offrire le prestazioni in termini di velocità che offre wp engine non dispongono di un servizio di staging un'altra caratteristica che contraddistingue wp engine è il modo in cui vengono eseguiti i backup se clicchiamo su user portal entriamo nell'area di amministrazione dove alla voce install possiamo operare sui backup a differenza di altri hosting dove il ripristino del backup richiede una certa competenza da parte dell'utente in wp engine sarà sufficiente selezionare il backup che desideriamo e cliccare ripristina per riavere il sito come l'avevamo salvato nel preciso istante del backup inoltre effettuare il backup sarà allo stesso modo un'operazione molto semplice perché basterà selezionare backup now e ci verrà notificato via email quando il backup sarà pronto in questo caso ricordo che il backup è integrale e comprende sia i file che il database è inutile dire che questi sono solo alcuni dei vantaggi che wp engine ci offre perché se diamo uno sguardo dietro le quinte tramite ftp scopriamo che sono già preinstallati moltissimi plugin che servono per la sicurezza di wordpress di cui non dovremmo minimamente preoccuparci perché pensa a tutto il team di wp engine ed infine il team si occupa anche di fare al nostro sito aggiornamenti critici per garantire la stabilità del sistema ad esempio io ho caricato un tema con alcune caratteristiche da aggiornare e dopo pochi minuti mi è arrivata questa mail che mi avvisa del fatto che il sistema ha aggiornato alcune cose del mio tema in automatico che erano obsolete per garantire un miglior funzionamento impressionante direi ma vediamo come funziona questo servizio dall'inizio andiamo su www.pecoramanara.com barra engine scorriamo verso il basso e clicchiamo su view our plans scegliamo ad esempio il piano a 29 euro al mese compiliamo con i nostri dati alla voce username inseriamo il nome utente che ci servirà per accedere al pannello di controllo di wp engine inseriamo nel nostro dominio se già ne abbiamo uno oppure possiamo tranquillamente per il momento lasciare il campo vuoto how did you hear about us dove hai sentito di noi vi sarò grato se inserirete pecoramanara.com ed il nome della vostra società se volete che il servizio sia fatturato alla società come data center scegliete quello più vicino al vostro audience se il sito in italiano vi consiglio quello europeo altrimenti valutate in base i vostri lettori chi saranno compiliamo il codice di verifica e scegliamo il periodo che vogliamo ora scorriamo in basso e compiliamo con i dati per il pagamento io metto in pausa e compilo il tutto e clicchiamo sul pulsante create my site per concludere molto bene abbiamo completato l'opera indovina che non c'è altro da fare nessuna operazione di installazione niente conferme o altro da fare siamo pronti per partire se andiamo sulla nostra email troveremo una mail di conferma con tutti i dati per accedere al nostro sito e dal nostro pannello di controllo prima completiamo l'iscrizione anche alla newsletter che ci è utile per sapere se ci sono avvisi che ci interessano e poi torniamo sulle mail andiamo sulla mail con il link al nostro sito e troviamo l'indirizzo del nostro blog e l'area di amministrazione inserendo i dati appena registrati per il pannello di controllo nella procedura di acquisto entreremo nella nostra area di amministrazione di wordpress ricordiamoci di andare sui setting alla voce reading e deselezionare nel momento in cui ci sentiamo pronti per essere visibili al mondo la spunta dalla voce relativa per permettere l'accesso ai motori di ricerca questo sarà molto importante per essere poi visti da google mi raccomando di guardare il tutorial su come creare un sito che guadagna per vedere tutte le cose che sono da fare al fine di avere il meglio per l'indicizzazione per concludere il nostro lavoro dobbiamo far puntare il nostro dominio esistente al server di vp engine vi ricordo che vp engine non è un registrar quindi dovremo sempre avere un servizio come ad esempio bluehost dove registrare il nostro dominio e gestire la posta per indirizzare il nostro dominio dobbiamo infine cambiare un dns quindi ritorniamo in general setting e da qui copiamo l'indirizzo ip del nostro sito adesso entriamo in bluehost alla voce domain scorriamo verso il basso sulla lista dei domini e selezioniamo il dominio che vogliamo reindirizzare alla voce dns zone editor clicchiamo sul link manage e saremo indirizzati alla pagina per la modifica dei dns il dns di nostro interesse sarà nei record a quello con il simbolo di et la chiocciolina delle email andiamo su edit e inseriamo il valore appena copiato clicchiamo save ed il gioco è fatto da questo momento bluehost si occuperà del servizio di posta e la gestione del puro dominio mentre il sito sarà ospitato dal server di vp engine perché i dns entrino in funzione a volte possono servire anche 24 ore quindi se non vedete immediatamente apparire il nuovo sito è normale dovrete avere solo un po di pazienza se vuoi vedere l'offerta di vp engine clicca sul link qui sotto e otterrai due mesi gratuiti bene ti aspetto al prossimo tutorial e non dimenticarti di iscriverti compilando con i tuoi dati nel modulo qui a fianco nella sidebar per restare sempre aggiornato sulle novità di pecora mannara